Sono state 303, su un totale regionale di 4.060, le assunzioni nel 2018 nel servizio sanitario piacentino, tutte a tempo indeterminato. Di queste, 93 sono stabilizzazioni. Professionisti e operatori sanitari che sono stati immessi in corsia e nei servizi di tutto il territorio regionale grazie al piano di rafforzamento degli organici voluto dalla Regione e realizzato con un duplice obiettivo, alzare ulteriormente la qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, portando anche a termine progetti specifici come quello sulla riduzione delle liste d'attesa per visite ed esami e offrire nuove possibilità di impiego o un futuro certo a chi già lavora nel servizio sanitario regionale. Numeri raggiunti a seguito di accordi con i sindacati e a un investimento della Regione di oltre 24 milioni di euro per stabilizzazioni, conferme dei contratti in essere nuove assunzioni e coperture del turnover al 120%, con punte del 150% per gli infermieri e di pochi inferiori al 130% per i medici, percentuali del tutto uniche in Italia. Oggi abbiamo dato la notizia delle 4.000 assunzioni, abbiamo fatto i conti precisi nel solo 2018 in sanità, per la sanità pubblica, si aggiungono a quelle precedenti e arriviamo nel triennio a oltre 8.000 assunzioni, tutte quante a tempo indeterminato, grazie a conti perfettamente in ordine, a risparmi che abbiamo saputo fare con la centrale unica degli acquisti.